Ti è arrivata una lettera, vuoi che la legga io per te? No! Sì? Sì, dai, dai, vediamo se... Aiuto! Ma scusa, ma tu hai curiosato nella cassetta delle... c'era solo quella? Vabbè, vediamo sta lettera! Sono un po' un impiccione, ho visto della posta e ho detto porto la posta in casa. Mi chiamo Natalia. Per le ame, con due pallini sull'aereo... Amio? Amie! Per le amie! Possiamo già buttarla? Vi seguo su X Factor e adoro quello che fate. Bene. Se ti va una birretta o due chiacchiere, scrivimi, ti lascio i miei contatti. E già che ci sono, pure il CV, un po' a caso. Il CV mi sembra interessante. No, ma a fare ricerca del personale, quindi... Sì, sì, sì. Come si scende? Era tutto collegato. È il momento di bonding tra tutti noi. Ah, con foto! Anzi... Fede, Fede! Ehi... Sì. Sì.